Un progetto di rigenerazione del tessuto socio-economico cittadino. Per la prima volta è una associazione di categoria, Confesercenti Veneto Centrale, grazie al suo ente di formazione CESCOT, nell'ambito del progetto denominato Sun City, a pubblicare il bando per l'erogazione di 60.000 euro nell'ambito di un programma finanziato da Regione Veneto e Comunità Europea con il sostegno della Camera di Commercio che ha messo a bilancio 2019 un fondo per la ricostituzione urbana a favore di 4-6 imprese commerciali a Padova, start-up o realtà che vogliono ricollocarsi, con piani produttivi da esaminare ed eventualmente inserire in percorsi di formazione e consulenza per dare concretezza all'idea. Informazioni più specifiche si possono ricavare attraverso la consultazione del sito www.confesercentidelvenetocentrale.it Il sistema città ha rappresentato per anni gran parte del PIL del nostro paese, sta riprendendo questo e la sfida sta nascendo proprio oggi all'interno delle aree urbane, le stesse grande distribuzioni sta investendo molto nell'occupare spazi all'interno delle aree urbane, siano periferie, siano centri storici. E qui la sfida credo da parte di un'associazione come Confesercenti che lavora con il basso, parla con le piccole imprese, è quello di far sì che questa trasformazione, questa novità sia colta dalle imprese che già operano, da quelle piccole imprese che per anni hanno rappresentato la validità, la vitalità dei centri storici. Ecco, parte da questo obiettivo, dobbiamo fare in modo che queste imprese che sono presenti nel territorio, che lavorano, abbiano tutti gli strumenti per rilanciarsi e diventare ancora più competitive in un prossimo futuro. Questo significa, a nostro avviso, rigenerare un'area urbana. In maniera diversa accorriamo il rischio che le prime crisi tutti se ne vadano via, come è successo in altri settori e in altre aree. Ecco, questa è la sfida che lanciamo con questo primo intervento di 60.000 euro per la città di Padova, ma che a nostro avviso darà e avrà grandi prospettive per il futuro. Il fondo prevede l'utilizzo del 100% relativamente alle spese burocratiche di avvio dell'impresa, più il 70% per i costi di investimento, ovvero arredo e attrezzature.